Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Adolfo Guzzini. Se siete a Roma e vi piace guardare il bello del Novecento italiano, avrete sicuramente visto la facciata del Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur. In cima a quella facciata c'è una scritta meravigliosa che, siccome riassume molti mestieri che gli italiani hanno fatto, mi sono scritto, vi prometto che è l'unica cosa che leggo oggi. Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e di trasmigratori. Bene, tolto forse i santi per i quali c'è sempre tempo però, uno di questi è Adolfo Guzzini. Un uomo che ha cambiato il modo in cui in Italia si fa impresa e si racconta la bellezza italiana. Ultimo di sei fratelli in un'epoca, negli anni 50, in cui diciamo che i primogeniti avevano uno spazio particolare, specie se i primogeniti maschi. Eppure sempre insieme con i suoi fratelli, quindi questa è un'avventura che è nata in modo familiare e che poi però lui ha portato sempre avanti in questi anni. Ha fatto illuminazione innanzitutto, evidentemente, bellezza, design e tutte queste cose insieme si chiamano appunto i Guzzini. Per cui è particolarmente un onore e un privilegio per me chiederti qualche cosa, Presidente. L'ha ricordato poco fa Jacopo Pertile, tu hai vinto quest'anno il premio compasso d'oro alla carriera. Tra le altre cose c'è il premio Leonardo, che è un premio importante, poi c'è una lunga lista di riconoscimenti che se dovessi leggervi avremmo finito il tempo che il TEDx ci concede. E quindi volevo soltanto iniziare con te da un ricordo. Come molte buone idee, Guzzini nasce in un garage. In che senso? Beh, esattamente. Dunque, innanzitutto, sei fratelli e tutti i più grandi di me che sono stati dei grandissimi formatori per me sostanzialmente. Sono loro che hanno messo insieme dei concetti estremamente innovativi all'epoca per il settore della industria manifatturiera, che poi era un'artigianata. E parliamo della fratelli Guzzini, che nasce nel 1912, dal nonno Enrico, dal mio padre e due zii, poi dai miei fratelli più grandi, che chiaramente hanno sviluppato ampiamente questa realtà. E i fratelli, essendo una famiglia numerosa, dice, guarda, non c'è posto per tutti, bisogna che facciamo qualcos'altro. E propossero di fare apprecchia illuminazione d'arredo, chiaramente già avendo utilizzato i designer, gli architetti, prima di Roma, poi tedeschi, poi di Milano e del mondo oggi. E la fratelli Guzzini è stata pertanto antisignana a livello regionale e nazionale, facendo e partecipando allo sviluppo del Made in Italy nel mondo. L'illuminazione ha esattamente avuto lo stesso percorso e successivamente addirittura arrivare a trainare in termini dimensionali, in termini di complessità generale, ma ricordando che questa seconda azienda, come la prima, nasce da un garage nel centro storico della città dei Granati. Ma comunque una città dove il bello, dove la bellezza, dove la cultura, dove i leopardi, il lotto, Vignamino Gindi, il grande denore e tantissimi minori. E noi abbiamo tante antenne di illustri, Raffaello Sanzio, Rossini, siamo marchigiani. Ecco, questo è un seme importante che voglia di fare, voglia di operare più che di apparire sostanzialmente. E tra questi protagonisti del passato che adesso tu hai citato e anche del presente, metterei i designer che hanno collaborato con Guzzini in questi anni. Mi viene in mente da Renzo Piano a Gaia Aulenti, mi viene in mente da Gio Ponti a tanti altri. Su uno di questi vorrei puntare, ed è il caso di dirlo, visto queste minuti che abbiamo insieme con Adolfo Guzzini, la luce. E il riflettore lo metterei, se permetti, su Luigi Massoni, che vi ha dato qualche cosa e vi ha lasciato qualche matita, qualche tratto di matita nella vostra storia aziendale. E non solo, mi auguro ovviamente. E non solo, assolutamente. Cioè, tra i tanti designer architetti che hanno collaborato con noi, sono veramente tanti, prima italiani, poi giapponesi anche o tedeschi, o americani, oggi inglesi, eccetera, eccetera. Perché chiaramente bisogna acquisire cultura internazionale, soprattutto per noi che operiamo nel settore dell'architettura di qualità, nel servizio del retail, nei beni culturali, nelle grandi infrastrutture aeroportuali e quant'altro. E nella illuminazione delle città, diciamo che siamo stati un'azienda che ha percorso dei tempi e degli sviluppi dell'innovazione. Ecco, Luigi Massoni è stato un architetto sardo di origine, che era direttore artistico della Boffi Cucine, che i miei fratelli più grandi hanno conosciuto attraverso un nostro distributore, un fornitore di matita prima di acrilico dell'ICI inglese, la famiglia Adelani di Milano. E chiaramente, conoscendolo, avendo visto quello che questo signore faceva già alla tenera età dei 27-28 anni, due riviste, una di queste era Forme, che parlava solo di design. È una persona che aveva una mano felicissima e che ha fatto veramente tanto per il Made in Italy che poi si è diffuso nel mondo, meno conosciuto forse di tanti altri rispetto a quello che è la realtà, ma un uomo che chiaramente dove metteva la mano realizzava un prodotto di estrema qualità. I miei fratelli li portarono le marche e iniziò a collaborare con il nostro gruppo industriale, prima con la fratelli Guzzini, successivamente con l'illuminazione, dove chiaramente ho cercato a piene mani, in cui i miei fratelli lavoravano, sono stati loro quelli che hanno anche pensato di fare questo sviluppo, ha dato veramente tanto, chiedendogli anche di collaborare strettamente in termini di coordinamento di immagine aziendale, non solo per tanto design di prodotto, ma chiaramente di comunicazione, di pubblica relazioni pubbliche e quant'altro, perché dovevamo attingere da Milano e attingevamo da Milano la cultura del design che già attraverso la Domus era largamente diffusa e pertanto attraverso i giopponti. Ecco, questa venuta di Massoni negli anni 63-64 ha fatto sì poi che con i fratelli, in particolare Raimondo che era il fratello più grande, che aveva sviluppato il processo della comunicazione e della commercializzazione dei prodotti, prima in Italia, poi in alcuni paesi esteri, l'abbiamo presentato a Franco Moschini, che era il presidente della poltrona Frao, il quale stava presentando l'adezza di Gioponti. Ci siamo seduti sopra in questo momento. Esatto, e qui siamo in uno dei bellissimi prodotti marchigiani fatti a mano, è chiaramente un vanto dell'Italia che oggi è in giro per il mondo. Comunque l'abbiamo presentato dicendogli, guarda, questo architetto sta facendo queste cose, con Boffi, con noi, con fratelli Guzzini, pertanto penso che devi sostanzialmente prenderne atto, conoscerlo e frequentarlo. Poi da lui siamo passati a Passini, che è sempre del gruppo Gabrielli, alla Farfisa, grande industria degli strumenti musicali nella zona di Ancona, e così poi anche in occasione di un grande albergo, che era il Santa Cristiana, di 300 camere e 600 posti di letto, abbiamo avuto modo di portare questo seme che avevamo già portato noi negli anni 50, e mia fratelli nella zona di Ancona, 50, sul territorio e far capire l'importanza del brand identity. Tant'è, si realizzò un seminario negli anni 68, in cui si fece un convegno con Massoni, con una società di comunicazione che era nostra agenzia, chiaramente, una di pubblica relazione e una di commercializzazione e internazionalizzazione. In prima fila c'era il grande Vittorio Merloni, con il suo direttore Dante Cecchi, a capire, comprendere, eccetera, perché all'epoca loro erano nel primo livello di design e di industrializzazione, no, l'industrializzazione ce l'avevano fatta, ma non c'era una cultura, era più metalmeccanica che di design, ecco, pertanto, diciamo, questo lavoro fatto nelle marche veramente è stato quello che ci ha portato ad essere sempre inclusivi e non esclusivi, cioè non essere gelosi delle nostre conoscenze e competenze. Abbiamo sempre voluto guardare avanti, fare relazioni, cercare di capire e conoscere il mondo e pertanto utilizzare tutte le leve possibili per migliorare il nostro essere italiani. Erano gli anni allegri, arrembanti, possiamo dire, all'inizio anche affamati del boom italiano, e però siamo già arrivati verso la fine degli anni 60 e non più tardi, nel 1973, succede una cosa, come in tutte le storie che hanno i loro momenti difficili, succede una cosa che per altre aziende dell'illuminazione poteva e forse è stata una catastrofe, si chiama crisi petrolifera, crisi energetica, ce li ricordiamo le code fuori dai distributori in Italia, ma anche il primo discorso sul risparmio. Com'è che avete superato un simile scoglio, passaggio di boa? Dunque, pur lavorando con le materie plastiche, esattamente però con la plastica più qualificata che era il materiale acrilico, che aveva una trasparenza superiore al cristallo, pari al 98%, pertanto un materiale che non era plastica, ma era, si diceva quella volta, era un prodotto guzzini. E noi sviluppamo con l'illuminazione una politica immediatamente di internazionalizzazione, commercializzazione all'estero, vendite, creazione di distributori esclusivi, di agenti in giro per l'Europa e successivamente nel mondo. Questo passaggio ci ha consentito di fare una joint venture nel 70 per i mercati dell'este, che è stata una prima avventura importante per il nostro gruppo come illuminazione, e nel 72 la facciamo in Nord America, in Canada, sul borde degli Stati Uniti. Perché? Perché avevamo con Massoni sviluppato da linee di prodotto che veramente erano estremamente innovativi, addirittura parliamo di una cosa semplicissima, un tre quarti di sfera che ancora oggi viene editato da noi e da un'altra azienda italiana, nostra amica, ma in questo caso concorrente, per dire qual era la purezza e l'innovazione minima con applicazioni di materiali per poter consumare meno energie e quant'altro. Comunque, queste linee di prodotto, quelle e alcune altre ovviamente, ci hanno consentito di poter lanciare sul mercato internazionale, anche sul mercato chiuso dell'este europeo e vendere sostanzialmente lampade contro patate, perché dalla Jugoslavia all'epoca, mercato chiuso, quella Russia che dominava tutti i paesi dell'este, e chiaramente il clearing verde, si vendeva in clearing verde, e questo faceva sì che non c'erano prodotti offerti per poter godere di queste novità, di queste bellezze, e allora gli stadi dividevano quello che si poteva esportare da quello che si doveva importare. E da lì nacque una diffusione del marchio su tutti i mercati dell'este, che oggi ci dà degli ottimi ritorni ancora. A proposito di patate, ti volevo chiedere di parlarci di semi di zucca, Presidente. Ne abbiamo parlato poco fa, prima di venire qui, perché è una storia bellissima che riguarda il modo in cui Guzzini ha capito che forse la luce non era soltanto una questione di estetica, ma era una questione di qualità della vita. L'anno scorso a una montagna di libri qui a Cortina abbiamo avuto Peppe Vessicchio che mettendo la musica, il maestro Peppe Vessicchio, accanto al vino faceva cambiare il sapore e il gusto al vino, e succedeva davvero. Voi avete capito qualcosa del genere con la luce, mi piacerebbe che ce lo raccontassi. Allora, diciamo questo, che come illuminazione, crisi del petrolio, e lì ho saltato un passaggio, con la crisi del petrolio abbiamo capito, quando avuto la possibilità di conoscere bene il mondo del settore degli apprechi di illuminazione, le nuove tendenze venivano dagli Stati Uniti con l'illuminazione architettorale, o illuminotecnica così chiamata, che non erano altro che quei binari elettrificati, fondati, creati nelle 60 da un'azienda laitoliera americana, che poi applicava lo spot o applicava gli incassi a soffitto. Questa tecnologia era completamente diversa dalla nostra tecnologia utilizzata, perché era molto più basata sulla fisica, e cioè su degli elementi, che erano le parabole, riflettori e riflettori, che doveva governare il flusso luminoso. Da questo passaggio coraggioso ha avuto, perché ogni crisi, in ogni caso, ci ha comportato una riduzione di fattore del 25%, grosso modo, e la chiusura poi dell'investimento fatto in Canada, ci ha consentito di capire dove stava andando il mondo, e cogliere questa opportunità, perché in Europa c'erano soltanto tre industrie tedesche, e una inglese, che lavoravano in questo comparto. Siamo stati la prima italiana a crearci una cultura veramente alta di che cosa la luce può fare nell'influenza tra l'uomo e l'ambiente. La luce è stato un valore, ed è un valore fondamentale, non ce ne rendiamo conto ancora, ma noi arriviamo oggi a delle applicazioni che poi, magari se vorrà approfondire, avremo l'opportunità di veramente trasformare in benessere ogni ambiente nel quale noi viviamo. Ma questo attraverso degli studi scientifici, delle ricerche, che noi abbiamo avuto modo di fare con diverse università, o per i beni culturali, con l'Istituto Italiano di Restauro di Roma, che da trent'anni collaboriamo proprio per studiare come le pitture, come gli affreschi, come le sculture possono essere meglio illuminate. Parliamo ora dal Canova, all'ultima scena del Michelangelo, alla Sala degli Scrovegni, dove abbiamo applicato nuove tecnologie, nuovi materiali e nuove formule con Internet of Things, che consente di poter interloquire, di poter essere davanti a queste opere e avere tutte le informazioni su Bluetooth che ogni visitatore può, se lo apre, avere direttamente davanti a ogni quadro o ogni opera su cui abbiamo operato. E a volte meglio luce può anche significare meno luce, no? No, ecco, diciamo che la cosa che io ritengo molto importante è che noi abbiamo fatto una campagna istituzionale, oltre al prodotto e allo sviluppo dei servizi, abbiamo dovuto crearci un mercato, innanzitutto perché non c'era il mercato dell'illuminotecnica, pertanto abbiamo creato uno staff di promotori tecnici che architetti, periti meccanici o ingegneri di qualità, giovani, volenterosi e affamati, che in qualche modo aiutasse a promuovere questi prodotti con le caratteristiche tecniche e quant'altro. Ecco, fin dall'inizio noi abbiamo puntato su una parte importantissima che aveva cambiato un'azienda artigiana, seppur già con un buon fattorato, in un'azienda industriale di livello internazionale, ma dove la ricerca scientifica, dove la ricerca sulla qualità degli uomini, dove la formazione degli uomini e la selezione, creare pertanto il management, che ci consentisse di poter avere oggi 22 filiali in giro per il mondo, con 1.500 dipendenti per quanto riguarda la parte illuminazione, che va con tre stabilimenti produttivi, l'Italia rappresenta l'85%, il Cina da 13 anni siamo stati gli unici italiani nel nostro comparto insieme a due aziende europee nel settore illuminazione ad avere un altro sito industriale per servire tutta la parte dell'oceano indiano pacifico e abbiamo fatto un'acquisizione nel Nord America l'anno scorso proprio per poter approfondire, penetrare meglio, perché bisogna essere vicino al mercato, oggi il servizio e il servizio nostro significa assistere gli architetti, assistere l'iDesign a capire bene le performance che ogni azienda può dare. Senti, ci avviciniamo alla conclusione, due ultime domande, la prima, quando nel 92 avete fatto uno slogan che si intitolava chi ha rubato la via latte, a punto interrogativo, a chi vi riferivate? Allora, eravamo in periodo delle crisi, chiamiamole sociali, politiche, economiche del nostro paese, chiamiamole anche mani pulite, dai. Mani pulite, insomma, mani pulite, allora abbiamo avuto, abbiamo illuminato un parco, un giardino di portoghesi, Paolo Portoghesi da una parte, dall'altra c'era un altro fenomeno, sostanzialmente noi abbiamo lanciato uno slogan istituzionale di campagna, poi di formazione e informazione, con i guzzini contro l'inquinamento luminoso. Cioè abbiamo sempre, siamo stati molto attenti alla sostenibilità, pertanto rispetto all'ambiente, fino all'economia circolare, essendo stati tra i promotori dei consorzi di recupero dei materiali, eccetera, e per quanto riguarda questo settore, chiaramente, cosa dovevamo dire per l'inquinamento luminoso? Abbiamo fatto delle pagine doppie sui quotidiani, sui settimanali, chiedo scusa, pagine nere, con sotto scritto i diversi slogan, sopra chi ha elopato la Via Lattea, e sopra che cosa significava questo? Significava che oggi, dalle città, non era più possibile vedere la Via Lattea. Gli astrofili ci hanno applaudito, ci hanno seguito, ci hanno creato un movimento a favore, nasce nel 92 una legge proprio sull'inquinamento luminoso, che viene messa a riferimento la nostra campagna istituzionale, e onestamente questo ci ha portato poi a creare degli studi sulla, veramente, la relazione della luce dell'uomo e dell'ambiente, e creare e inventare l'illuminazione biodinamica con l'Università di Detroit negli Stati Uniti, che è il più importante cerco di ricerca nel settore della illuminazione. Abbiamo solo un minuto e ti chiedo di lasciarci dicendoci, in questa epoca forse un po' buia, com'è che si continua a illuminare l'Occidente e il mondo? Com'è che si continua a fare? Progresso, sviluppo, diffusione della conoscenza? Siamo al TED, d'altra parte. Dunque, guardi, innanzitutto debbo dire che pensiamo un attimo all'Italia, perché siamo in una zona di grande pericolo ancora, non voglio essere allarmista, io sono un ottimista, ma non possiamo andare avanti così. Abbiamo troppi punti deboli, non parlo del ponte, ma abbiamo avuto modo di dibattere di quante problematiche il nostro Paese deve vivere, sopravvivere e anzi sviluppare. dai terremoti, a tutto quello che è l'ambiente, all'energia, all'eviazione fiscale, eccetera, eccetera. Con un governo che per ora mi rappresenta poco, nel senso che non hanno capito che prima di parlare un ministro deve conoscere bene, meglio che stia zitto, e conoscere bene le problematiche per poter esprimere un parere competente e una certezza di diritto. Questo è il primo problema. L'altro, io sono stato un grande estimatore e ho conosciuto personalmente Marchionne, ho avuto possibilità di incontrarlo più volte, è il più importante uomo che noi abbiamo avuto in Italia negli ultimi 40 anni, è un uomo che ha avuto il coraggio di prendere in mano un'azienda che era quasi in bancarotta, trasformarla in una potenza internazionale, riportando al Paese e in Italia strutture di produzione che erano in Bologna per far sì che, rimettendoci in termini economici, per far sì che l'economia italiana potesse riprendere. È un uomo che sollecitava, ha creato una struttura importantissima di ingegneri che gli ha consentito di acquisire la Chrysler, con la quale poi ha fatto la World Class Marifacene, che noi abbiamo acquisito in termini di efficienza produttiva, e il concetto è uno solo, motivare i giovani, dare spazio ai giovani. Siamo qui in un palco e non sono qui per ringraziare voi onestamente, perché voi state facendo delle cose estremamente importanti e abbiamo dovuto conoscerci in un altro momento, ma veramente dobbiamo dare spazio ai giovani, perché il nostro futuro sono i giovani, dove però il rispetto dei ruoli, la disciplina, a noi manca disciplina, non possiamo vivere come stiamo vivendo oggi, perché dobbiamo capire che se noi non facciamo ricerca, sviluppo, innovazione, e internazionalizzazione, culturale, cioè essere sprovincializzati, è questo il messaggio che io dico più importante che dobbiamo portare fuori, perché se noi continuiamo a rimanere a casa, e dico agli studenti quando mi chiamano a fare delle relazioni nelle università o in altri posti, non possiamo, voi che cosa state facendo, quali sciopri state facendo, quali sono i vostri tre primi problemi che volete far sì, che vengano discussi in maniera, cioè ritorniamo sulle piazze in maniera pacifica, ma in maniera determinata e diamo valore veramente alle cose che hanno peso e che possono dare e ridare all'Italia la speranza del futuro per i nostri giovani. Grazie ad Adolfo Cuzzini, Cavaliere del Lavoro. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.